Un'area verde, un polmone verde, ancora più grande in un'altra zona, quindi ampliando il sito di interesse comunitario e non diminuendolo. Per agevolare l'iter della cabinovia il Comune può proporre compensazioni ambientali al progetto. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocci Marro scrive agli uffici comunali competenti e spiega in che modo si può intervenire per ridurre l'incidenza ambientale dell'impianto. Non è un diniego, è semplicemente la certificazione di quello che il Comune aveva già detto, ovvero nel caso non si possa per legge passare in quella zona ma c'è una deroga e quella deroga è se io ho tolto 10 alberi ne faccio 20 altrove, se la fauna ha un problema di un certo tipo io vedo di ripopolarla ancora di più altrove. Scocci Marro torna poi a difendere a spada tratta l'ARPA regionale attaccata da alcune associazioni ambientaliste in merito al monitoraggio dell'inquinamento navale. L'assessore riporta le parole dell'ex rettore Maurizio Fermeglia del Comitato Scientifico del WWF. Si è permesso di dire non al bar ma ai giornalisti che i dati dell'ARPA, la semplifico, sono orientati o pseudo taroccati, orientati l'ha detto, quindi mettendo il dubbio al cittadino che l'ARPA sia condizionabile o condizionato per non dire peggio. Allora io ho detto all'Anna Luttman, direttrice dell'ARPA che ho fortunatamente voluto e a tutta l'ARPA ho dato la mia stima e visto che l'ARPA, l'agenzia regionale per l'ambiente, è il braccio operativo del mio assessorato all'ambiente, io garantisco non solo sulla correttezza morale ma anche sulla correttezza scientifica dei dati, fatti con rigore scientifico, con dei protocolli ben precisi, testati da professionisti che dalla mattina e dalla sera fanno questo lavoro e sono tutti in rete, consultabili da tutti e quindi certificati. E dire di mettere in dubbio questa è una grave accusa che io ritengo che l'ARPA dovrà far valere nelle sedi opportune.